e sono nata nel 1987 a Mogadish ho studiato nella città di Bele Duane e dopo, dal febbraio del 2004 ho lavorato nella radio Voice of Iran trasmettevo le informazioni avevo anche un programma dedicato ai bambini ero felice del mio lavoro ma sfortunatamente un gruppo conosciuto come Al-Shabaab non era contento loro non avrebbero mai voluto che una donna lavorasse come giornalista perché è una cosa contraria alla loro religione io non ho mai voluto lasciare il mio lavoro e per questo venni rapita bendata e portata in una località sconosciuta ogni mattina mi colpivano dandomi dieci frustate promisero di uccidermi per provarmi che mi avrebbero ucciso decapitarono qualcuno che era stato rapito come me e mi portarono la sua testa sono rimasta prigioniera due settimane i miei genitori e i miei bambini non sapevano dov'ero una mattina presto, circa alle tre e mezza scappai da una finestra la mia vita era minacciata e così decisi di lasciare la Somalia andai in Kenya, Uganda, Sudan e più tardi alla fine arrivai in Libia lavoravo nelle pulizie cercai di lasciare la Libia per l'Italia nel 2010 veni arrestata dall'esercito di Gheddafi quando lasciai la Somalia ero incinta e quindi veni arrestata con il mio bambino veni portata in un campo di detenzione e rimasi lì per otto mesi più tardi pagai mille dollari per essere rilasciata quando uscì di prigione decisi di mandare mio figlio in Somalia tramite una persona che conoscevo e che stava viaggiando il mio sogno di arrivare in Europa si realizzò all'alba del 17 febbraio del 2011 salì su un peschereccio diretto in Italia e passavamo quattro giorni e quattro notti in mare senza cibo né acqua eravamo circa 250 persone 30 erano bambini di meno di un anno un giorno prima di arrivare in Italia la nostra imbarcazione era abbastanza danneggiata e all'improvviso vedemmo un peschereccio italiano che avvisò la marina militare la quale arrivò immediatamente con tre navi per soccorrerci restammo tre giorni a Lampedusa e poi fumo trasferiti in Sicilia a Caratoni restammo a Caratoni 30 giorni poi venimmo trasferiti a Racconeggi vicino Torino sono rimasta lì otto mesi e poi sono stata trasferita a Settimo Torinese all'Hotel Giglio dove vivo ora nell'Hotel Giglio sono inserita in un corso di lingua italiana ci vuole un'ora di strada dall'hotel alla scuola la vita qui non è il meglio ma è sopportabile grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti